sia lodato accomodatevi quanti siete ancora all'impiedi prendete posto fratelli e sorelle vogliamo passare a quella che è la lettura della parola chiediamo che lo spirito santo ancora in questa sera possa parlare ai nostri cuori ogni qualvolta noi ci approcciamo a quella che è la parola di dio prendiamo forza prendiamo vigore questa sera in mezzo a noi forse c'è qualcuno che ha bisogno di prendere forza di prendere vigore di continuare a credere in quello che è il sacrificio glorioso di gesù questa sera come vi dicevo un po all'inizio di questo culto parleremo della sconfitta che subì satana al golgota e ho scelto dei passi il signore ha messo in me dei passi ieri sera mentre che pregavo notavo questi passi che si trovano nel vangelo di luca al capitolo 22 lo spirito santo mi faceva vedere come o sì il diavolo può disporre tutti i piani che vuole nella storia egli l'ha fatto e lo sta continuando a fare prima per distruggere l'intera umanità con adame devo attraverso quell'albero quel legno il peccato è entrato e poi egli voleva mettere a tacere gesù che attraverso un altro legno no ci ha dato la vita e ancora oggi il signore no ci dà la vita lui vorrebbe mettere a tacere la chiesa coloro che sono stati redenti dal prezioso sangue di cristo ma non ci riuscirà e allora meditate insieme a me ripeto vangelo di luca leggeremo dal capitolo 22 leggeremo dal versetto 1 fino al versetto 6 dice così la parola di dio la festa degli azimi detta la pasqua si avvicinava e i capi dei sacerdoti e gli scribbi cercavano il modo di farlo morire poiché temevano il popolo ascoltate bene satana entrò in giuda chiamato iscariota che era nel numero dei dodici egli andò a conferire con i capi del sacerdoti e i capitani sul modo di consegnarlo nelle loro mani essi si rallegrarono e pattuirono di dargli del denaro egli fu d'accordo e cercava l'occasione buona per consegnare loro gesù di nascosto alla folla fin qui la parola del signore è un passo molto importante un passaggio molto importante della vita di gesù senza il tradimento di gesù egli stesso non sarebbe comparso dinanzi al sommo sacerdote dinanzi al sidedrio egli non avrebbe passato il castigo che aspettava all'umanità noi tutti la croce la il mondo non sarebbe stato redente la festa degli azimi detta la pasqua in questo periodo il signore gesù scelse proprio questo momento per dare la sua vita era una festa molto importante non so quanti di voi conoscono questa festa la festa degli azimi detta pasqua sono sicuro che la maggior parte di voi conosce questa festa perché è una delle feste più importanti per gli ebrei adesso vedremo il perché cade sempre questa festa nel periodo della primavera il mese di nissan il quindicesimo giorno e per otto giorni gli ebrei festeggiano quello che è il passaggio pasqua significa proprio passaggio dalla schiavitù egizia fino alla liberazione del popolo di israele fino a che il signore fece quella promessa non più schiavi del tiranna egizio del faraone scusatemi egizio ma liberi veramente liberi perché il signore per mezzo di mosè liberò il suo popolo la pasqua infatti raffigurava un po quello che è il sacrificio di gesù come il popolo di israele fu liberato dalle mani del faraone così e tu fratello sorella per mezzo del sacrificio di gesù questa sera e nel momento in cui lo abbiamo accettato ma principalmente nel momento in cui cristo è salito su quella croce ha sancito un nuovo patto con il suo sangue io e tu abbiamo ricevuto liberazione una nuova pasqua il diavolo come abbiamo letto voleva mettere a tacere il nostro signore eppure la croce era già stata prevista nel piano salvifico del signore quanto è glorioso il nostro dio fratelli e sorelle quanto è onnisciente onnipotente quanto egli manifesta la sua grazia prendendo il giro il nostro avversario egli si crede intelligente ma deve stare sottoposto a quelli che sono i decreti divini la pasqua la vera pasqua è quella che stiamo celebrando questa sera dinanzi al nostro signore sorella sei libera fratello sei libero dal tuo peccato non c'è più peccato che ti condanna perché perché cristo si è fatto prendere ha permesso di essere tradito e salito su quella croce io e tu beh ci stiamo dirigendo in un'altra gerusalemme in un'altra terra promessa a breve gli e tu festeggeremo un'altra pasqua un matrimonio la liberazione il passaggio da questo corpo corruttibile a quello che sarà un altro corpo incorruttibile però questa volta e celebreremo il nostro signore una volta e per tutte la pasqua un giorno che il signore scelse affinché la sua gloria potesse essere manifestata agli uomini non più con del pane con del vino con delle erbe amare non più sacrificando un agnello maschio puro senza difetto adesso cristo il vero uomo e vero dio perfetto senza macchia stava per prendere posto su quel duro legno della croce abbiamo letto no che il diavolo non so se avete mai fatto caso a questo particolare mentre che pregavano ieri sera leggevo satana c'è scritto entrò in giuda chiamato iscariota e pensavo alla vita di giuda questo apostolo che viveva a stretto contatto con gesù eppure egli aveva visto il nostro signore operare tanti miracoli chissà quante volte giuda detto iscariota che poi divenne un traditore aveva visto gesù predicare alle folle chissà quante volte lo aveva visto imporre le mani ai malati ed essi guarivano chissà giuda quante volte aveva visto il nostro signore liberare uomini e donne sotto la schiavitù del maligno adesso si ci trovava lui e mi facevo questa domanda ma quanto era lontano questo uomo da dio pur vivendo in stretto contatto con gesù ci pensate fratelli e sorelle un uomo che aveva lasciato tutto un uomo che era stato chiamato da gesù se andate a leggere nel capitolo sei il signore prima di scegliere sempre nel vangelo di luca prima di scegliere i suoi apostoli passò una notte sul monte a pregare giuda era stato già designato da tempo affinché egli potesse scegliere se rimanere con gesù o essere la fonte di quel tradimento eppure un uomo così vicino a gesù scelse di tradire il suo maestro e mi faccio questa domanda quanto era lontano questo discepolo da gesù egli ci viveva in stretto contatto aveva visto i suoi miracoli aveva visto quelle liberazioni che forse dovevano trasformare la sua vita ma non è questo quello che trasforma la vita di un uomo sappiamo che il ravvedimento fratelli e sorelle è un dono di dio e senza questo glorioso dono nessuno può andare al signore vantare quella che è la grazia giuda aveva visto chissà quante volte il suo maestro beh operare eppure permise a satana di impossessarsi della sua vita e mi chiedo quanto era lontano questo uomo da dio quante volte magari noi ci professiamo ovviamente noi non parlo per voi fratelli parlo in generale quante volte i cristiani dicono di essere veramente seguaci di gesù e poi vedendo quelli che sono i miracoli di dio sperimentando la grazia salvifica del signore sono lontani un miglio da quella che la grazia lo aveva lì vicino egli lo avrebbe salvato invece giuda permise a satana di servirsi di lui per tradirlo egli non aveva capito che il signore era venuto per liberare l'umanità e a causa di quel denaro egli concesse il nostro redentore il diavolo decise come dicevo all'inizio di condannare gesù attraverso o giuda questo discepolo del maestro aderire ad una chiesa fratelli e sorelle non significa appartenere cristo gli altri magari vedevano giuda seguire il maestro chissà quante volte contando i discepoli avevano contato giuda magari chissà quante volte gli altri ci avranno visto venire in chiesa con la bibbia sotto il braccio essere vestiti di tutto punto eppure essere lontani dal signore scusatemi se sono così schietto ma lo ripeto e lo ribadisco aderire una chiesa ad una chiesa non significa essere discepoli gesù come giuda non lo era discepolo di gesù solo in apparenza eppure restando così vicino al maestro così io e tu fratelli e sorelle non siamo o servi di cristo discepoli del maestro semplicemente avendo dato l'aderenza ad una comunità ad una comunità sapete come si diventa discepoli del maestro la bibbia lo dice rinunciando ogni giorno a noi stessi se giuda avesse rinunciato a se stesso se giuda avesse rinnegato quella parte ladra dentro di lui se lui avesse detto gesù ti prego fa che la tua grazia mi possa trasformare ecco fatto un nuovo discepoli un discepolo scusatemi nelle mani del cristo usato formato affinché altri potessero divenire beh discepoli e invece giuda permise a satana non a uno spirito no qui c'è scritto l'abbiamo letto satana entrò in giuda quanto era lontano giuda dal signore quanto era lontano la fine degli oppositori della croce sappiamo poi che fine fece giuda e gli si tolse la vita questi sono gli oppositori della croce ma il signore aveva già previsto tutto il signore aveva scelto quello strumento la croce per mezzo di quella di quel tradimento per salvare meta il diavolo no in persona aveva preso possesso di questo uomo e si è riunito l'abbiamo letto con i capi dei sacerdoti con sicuramente c'era anche il sommo sacerdote l'abbiamo detto egli andò a conferire con i capi dei sacerdoti e i capitani sul modo di consegnarlo nelle loro mani quella sera il diavolo fratelli e tutti quello che il suo regno aveva escogitato un modo per fermare l'opera di cristo e vi faccio una domanda chi può fermare l'opera di dio forse il nemico delle nostre anime egli pensava che attraverso quell'uomo attraverso quei capi l'opera di dio si fosse fermata una volta e per tutte invece proprio il signore si concesse in quelle mani affinché la mia vita e la tua vita fosse salva grazie signore perché o tu hai concesso questo affinché io potessi vederti un giorno satana voleva fermare l'opera di dio invece in quella notte riunito con altri suoi potremmo dire seguaci chissà quanti demoni gioivano in quella sera quanti demoni stavano per trionfare dire finalmente ce l'abbiamo fatta questo gesù che va portando liberazione che così con tanta autorità ci sgrida ecco a breve gli chiuderemo la bocca invece non è stato così in quella notte fratelli e sorelle di tradimento non è stato il nostro signore essere sconfitto ma satana con tutto l'inferno ha avuto la peggio egli come abbiamo letto in colossesi ne ha fatto un pubblico spettacolo e per mezzo di quel pubblico spettacolo per mezzo di quella croce beh io e tu abbiamo avuto la vita l'inferno quella sera stessa decretò il suo annientamento dicevano gesù adesso morirà senza sapere che quella battaglia era nelle mani di dio così come l'inferno allora fece a battaglia a gesù fratelli e sorelle in quella notte noi siamo la sposa di cristo e mi sembra che quando un uomo è una donna c'è scritto nella parola di dio si uniscono in matrimonia diventano una sola carne è vero c'è scritto così nella parola di dio allora non pensate che il diavolo non continui a fare guerra alla chiesa del signore come egli voleva distruggere l'opera di dio mentre che gesù era sulla terra beh egli lo continua a fare oggi sappi fratello sappi sorella che nel momento in cui ti metterai in cuore di servire il signore beh il diavolo si scaglierà egli proverà a fermarti in qualsiasi maniera però tu fai una cosa grida al tuo dio e di signore la mia vita è nelle tue mani come la vita di gesù era nelle mani del padre quel tradimento era già stato scritto nei decreti di dio doveva accadere così la sposa fratelli e sorelle è già scritto che dovrà incontrare lo sposo devi fare una cosa devi rimanere fedele fino alla fine non voltare le spalle come fece giuda non permettere che la tua vita sia in mano del nemico sappi che se non sceglierai per dio se ancora non lo hai fatto automaticamente sei nelle mani dell'avversario giuda scelse scelse quello di tradire il suo signore lo tradì in maniera così codarda con un bacio ve lo ricordate indicò chi era il maestro così l'inferno quella notte poteva festeggiare eppure non sapevano che di lì a breve le porte dell'ades non avrebbero potuto più trionfare sulla chiesa quanto è glorioso il nostro dio fratelli e sorelle quante volte dovremmo ringraziare il nostro signore che ha permesso tutto ciò affinché io e tu potessimo avere la vita mi dispiace per il diavolo ma dio ha tutto sotto controllo egli nel momento in cui tu hai affidato la tua vita nelle sue mani beh egli conduce la tua vita anche se fosse per la valle dell'ombra della morte beh non temere alcun male fratello e sorelle perché gesù è con te mi dispiace per il diavolo ma quella sera è stato lui a essere sconfitto abbiamo assistito mediante questo passo alla sconfitta del nostro nemico mi dispiace egli non ha più voce in capitola sulla nostra redenzione perché o è vero egli ci aveva fatto scendere a compromessi col peccato ma un secondo adamo è venuto una seconda pasqua è stata celebrata io e tu abbiamo ottenuto guarigione dalle nostre malattie spirituali noi io e tu abbiamo ottenuto guarigione dal peccato che così tanto ci assediava di nascosto lo volevano consegnare il diavolo pensava di oggire nell'ombra nessuno mi vedrà lo leverò lo leverò di mezzo senza che nessuno lo proclamerà più invece io e tu questa sera fratelli e sorelle siamo ancora qua a lodare il nostro dio volevano levarlo di mezzo senza che più il popolo potesse acclamare invece gesù per lo spirito questa sera si trova qui e gli è morto è vero ma il terzo giorno è resuscitato ed egli ci ha dato la vita e la continua a dare ancora in questa sera basta rimanere lontano da dio lontano da dio fratelli e sorelle lo dicevo c'è la morte giù da scelse ed egli morì non soltanto fisicamente ma la cosa più grave che egli fece quella di morire spiritualmente quanto lontano era questo uomo e forse quanto lontano sei tu dal signore ma ancora questa sera c'è una possibilità finché c'è vita no c'è una possibilità e questa sera te la voglio predicare si chiama cristo gesù e aggrappandoti o a quella croce egli può darti nuova vita sì il diavolo da questa sera se lo vorrai non avrà più potere sulla tua vita sulla tua mente sul tuo cuore basta semplicemente un passo di fede che tu faccia beh nei confronti del tuo signore ed egli sarà reso al silenzio il diavolo non ha più potere perché perché cristo su quella croce lo ha zittito sembrava al nostro nemico che per mezzo di quella croce il nostro dio fosse messo al silenzio invece egli non sapeva come dicevo che quello era proprio il piano del nostro signore si sta verificando questo fratelli e sorelle che la chiesa quasi è resa al silenzio si sta verificando proprio in questi ultimi tempi che o il diavolo si sta scagliando contro i suoi figlioli in maniera contro i figlioli di dio in maniera eclatante in maniera aggressiva sta succedendo proprio sotto i nostri occhi che satana sta continuando a provare a fermare la sua chiesa ma come avvenne duemila anni fa come il diavolo non poter fermare l'opera di dio che è benedetta in eterno beh egli potrà soltanto provare ma nella sua stupidità lui si crede di essere intelligente ma nella sua poca intelligenza nella sua poca furbizia in confronto a quella del nostro dio egli continuerà a essere sconfitto nel nome di gesù questa è la nostra speranza questa è la tua speranza stare vicini a dio stare lontani da quelli che il peccato e fare la volontà del signore giude ma vi ho alla conclusione scelse di morire al suo redentore ed abbracciare quel peccato che lo avrebbe portato all'inferno invece io e tu questa sera dobbiamo fare un'altra scelta correre verso il nostro redentore correre con tutte le forze in quella che è la scelta più giusta che io e tu possiamo fare questa sera signore voglio abbracciare quella croce con tutte le mie forze sicuro e certo che anche se intorno a me c'è la morte tutto intorno a me grida contro il tuo figliolo io per certo vorrò rimanerti fedele come abbandonando il peccato rinnegando quella che è la lontananza della tua presenza nella nostra vita correndo al signore e dicendo un po come l'apostolo paolo signore fa che il mio vivere sia cristo e il mio morire sia guadagno questo è il guadagno dei credenti dei coloro che sono stati o redenti dal prezioso sangue di gesù fai la tua scelta caro giovane scegli cristo oppure scegli di andare via a te la scelta il signore questa sera ti pone questa opportunità non fare come giuda non disprezzare la croce non rinnegare il tuo signore non rimanere lontano dal tuo redentore perché lontano da dio c'è morte c'è desiluzione c'è disperazione vicino a dio invece o c'è il refrigerio per la tua anima scegli e che la tua scelta questa sera possa essere di vivere per colui che ha dato la sua vita per te amen allora con queste ultime parole vogliamo andare in preghiera fratelli e sorelle dire grazie signore perché tutto era previsto dal tuo piano grazie signore perché mentre che il diavolo festeggiava tu su quella croce lo ammutolivi una volta e per tutto grazie signore perché satano non ha più potere sulla mia vita